L'uomo che amo Sono sicuro di aver visto Kate Ok il ladro ma anche il derubato Mi sta dicendo che il bagaglio di madama è stato rubato in quest'albergo a quattro stelle Come ha potuto permetterlo? Con un solo colpo Kate gli ha preso il cuore e anche la collana French Kiss Una commedia molto molto indiavolata e raffinata